Il messaggio, la scuola dei disastri. La scuola dei disastri. Allora, tutti fratelli disastrati, sintonizzatevi. Eccomi. Eccomi, e io anche mi metto in riga. Giremaia 27, 12, di corsa. Io parlai dunque a Sedechia, re di Giuda, secondo tutte queste parole, e dissi, piegate il collo sotto il gioco del re di Babilonia, sottomettetevi a lui e al suo popolo, e vivrete. Aspetta, oh. Capito, tutti, sai, i protestanti, i cattolici, del Vangelo di Prosperità. Hai visto queste chiese protestanti che predicano il Vangelo di Prosperità? Tutti lì in Israele a predicare, a tempi di Geremia, così era, 2500 anni fa. Portate i soldi in chiesa che Dio vi ama. E dove era la chiesa? Nella tasca del pastore, oggigiorno. A quei tempi cosa predicavano? Idoli. Cioè, no, predicavano che Dio, grande Jehova, grande Dio, avrebbe protetto Israele dalla Babilonia. Perché? Perché Dio è potente. Lo so che Dio è potente, ma Dio mi è andato a Babilonia e Israele fu distrutto. siccome Israele non aveva voluto imparare a servire Dio alla maniera facile, attraverso la sua parola, Dio cosa fa? Allora, come dice Geremia, Dio glielo insegna alla maniera dura tramite la scuola babilonese, cioè di istruzione. E non ha voluto piegare il collo con le buone e Dio glielo fa piegare quelle cattive. Perché non ci sono pentiti. Tutto lì. Un piccolo dettaglio. Cosa ha fatto Dio durante... Andiamo a Genesi 15, 13 e 14. Leggiamolo. Cosa fa Dio in questi 400 anni che parla qui? Un periodo che poi diventarono 430 perché Mosè ha ucciso un esenziano e da 400 diventerà 430. Allora, Genesi 15, 13 e 14. E il Signore disse ad Abramo, sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Quindi Dio profetizza qua ad Abramo, Genesi 15, 13, dice 400 anni di schiavitù. Perché? Perché sono zucche dure. Come me e te. Noi, popoli di Dio, ok, compreso il Signore io, siamo zucche dure. Capiamo solo dopo la bastonata. E alcuni neanche dopo quella. E Giacobbe come ha imparato? Imparato durante 20 anni di una dura scuola che si chiamava la scuola di Labano. Va bene? Chi era Labano? Il Labano è quello che poi sarebbe diventato il suocero perché si è sposato le due figlie. Va bene? E quindi Labano. Però Labano, siccome Giacobbe era un imbroglione, Giacobbe vuol dire imbroglione tra l'altro in ebraico, era un imbroglione Giacobbe e allora Dio ha mandato alla scuola di uno più umbroglione di lui. Va bene? Sì. Va bene. E lui ha imparato durante 20 anni, è rimasto 20 anni, 20 anni è rimasto in questa scuola e Giacobbe in 20 anni finalmente Dio riesce a modellarlo. Andiamo a leggere. Genesi 31, 38 a 42. Come Giacobbe imparò affinché diventasse Israele. Genesi 31, 38 a 42. Ecco, sono stato con te 20 anni. Le tue pecore e le tue capre non hanno abortito e io non ho mangiato i montoni del tuo grece. Io non ti ho mai portato una bestia sbranata. Ne ho subito il danno io. Tu mi chiedevi conto di quello che era stato rubato di giorno o rubato di notte. Giacobbe sta parlando a Labano. Va bene, a suo suocero. Andiamo. 40. Di giorno mi consumava il caldo, di notte il gelo. Il sonno fuggiva dagli occhi miei. Ecco, vent'anni che sono in casa tua. Ti ho servito 14 anni per le tue due figlie e sei anni per le tue pecore e tu hai modificato il mio salario dieci volte. Mi hai imbrogliato dieci volte. Quindi l'imbroglione fu imbrogliato e così imparò che l'imbroglio non funziona. avrebbe ricevuto la prima genitura a posto di Esau. Certo, ma alla maniera di Dio. Come Davide che disse io non ucciderò Saul nonostante avesse avuto l'accasione da volte. Morirà in battaglia disse. Morirà in battaglia, morirà per un nemico ma non per mano mia. E così fu Davide. Giacobbe invece si fa giustizia con le sue mani. Lui imbroglia di qua il gioco delle tre carte, quello che ha fatto, un piatto di zuppa e si prende la prima genitura bravo come sei furbo e intelligente. Invece Dio non l'ha benedetto. E per quello scherzetto con la complice Rebecca la madre per quello scherzetto ci sono costate venti anni di scuola dura. 42 Se il Dio di mio padre il Dio d'Abramo e il terrore di Isacco non fosse stato con me ora tu mi avresti certo rimandato a mani vuote. Dio ha visto la mia afflizione e la fatica delle mie mani e la notte scorsa ha pronunziato la sua sentenza. Alleluia gli ha detto di andarsene via ha detto Dio ho visto quello che Labano Labano fa ti imbroglia di qua di là prendi e vai via. Vediamo invece che Abramo per esempio invece non ha dovuto imparare la scuola dura di Labano o di una scuola di nessuno. Abramo è il nostro esempio rappresentava Dio Isacco rappresentava Gesù il figlio sacrificato va bene quindi Abramo è l'esempio che lui impara come ha imparato Abramo in una parola ha imparato semplicemente crescendo in due cose l'amore di Dio e il timore di Dio tre cose è l'ubbidienza a Dio quindi vediamo Abramo e per me è un è un grandississimo esempio di tutta la Bibbia Abramo Giuseppe Davide grandi 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 esempi gente che impara alla maniera facile la maniera della parola la maniera dell'amore se tutti in amore di Dio ogni giorno di più impari senza la scuola di Labano impari senza 400 anni in Egitto impari senza coronavirus senza divorziare senza un incidente di macchine che il diavolo manda vi confondete diavolo non Dio ma Dio però mi ha insegnato lezioni all'ospedale è logico perché Dio usa anche il diavolo ma non è mica Dio che manda il diavolo quando ha mandato il diavolo a Giobbe non è mica stato Dio erano i peccati di Giobbe che attiravano il diavolo infatti si è visto che Giobbe era uno che ha un problema di grossi problemi di presunzione ha speso quasi tutto il libro di Giobbe a lamentarsi non è l'esempio di Gesù sulla croce quindi Giobbe il più grande il più giusto uomo della Bibbia gli mancava qualche giustizia d'accordo? Quindi si può imparare solo come ha fatto Abramo senza passare sofferenze afflizioni solo ubbidendo per fede continuando ad andare avanti per Dio senza soffrire è possibile questo? è possibile un fratello che ha divorziato ha imparato che il divorzio non funziona perché i figli hanno sofferto ma se tu e possibilmente la mogliettina aveste imparato dalla Bibbia dal Vangelo da Gesù dalle parabole dal Calvario dalla Croce dalla sofferenza dalla Resurrezione non era necessario un divorzio il figlio ha imparato perché si è drogato però ha imparato e si grazie è morto Dio Vardosa ha imparato uno ha imparato che non corre molto con la macchina e si è ammazzato però mentre moriva ha imparato grazie e perché non impariamo dal Vangelo? dimmi sì ma nello stesso tempo non vedo come possiamo avere una vita senza problemi tutto benedetto tutto va bene e allora? qual è il punto? no dico per esempio anche Abramo c'è stata la carestia durante i suoi giorni ha dovuto spostarsi andare in Egitto quindi problemi ci sono non è che se tu ubbidisci tutto va bene sempre no ma sentimi cara mia viviamo in un mondo caduto capito? grazie alla nostra mamma Eva e papà e carnalia Adamo viviamo in un mondo caduto cioè cosa vuol dire con questo? vuol dire che sto rispondendo a me stessa che anche se ubbidiamo come Abramo lo stesso possiamo avere problemi ma impariamo e andiamo avanti no non è che potrai avere problemi non è che puoi evitare i problemi non è che potrai avere problemi assolutamente garantito li avrai si ho capito sono compresi nel prezzo senza sovrapprezzo rispondendo i problemi non devi pagare a parte Eva inclusa si perché ha detto che gli altri hanno imparato dalle loro sofferenze come Giacobbe ma Abramo invece era ubbidiente non ha dovuto soffrire come Giacobbe però lo stesso anche Abramo aveva difficoltà ma guarda si dice che Gesù ha imparato così a Brei 5.8 Gesù ha imparato dalle cose che ha sofferto Gesù ha imparato dalle sue sofferenze va bene e dice così e figurati se Abramo ha imparato le sofferenze Abramo avrà sofferto come tutti sbagliato come tutti eccetera dovuto sacrificare Isacco nel suo cuore lo ha sacrificato si è logico doveva essere provato Dio già lo sapeva che superava la prova ma Dio per mostrarlo a noi a loro e agli angeli anche al diavolo mostrare l'ho dovuto mettere nella pratica come appunto Paolo dice Abramo fu benedetto ricevette le promesse prima di offrire Isacco però arriva Giacomo il fratello di Gesù che scrive l'epistola di Giacomo il fratello Carmale di Gesù e lo corregge dice si è vero che Abramo ricevette le promesse lo corregge lo bilancia lo equilibria è vero che Abramo ricevette le promesse prima di offrire Isacco però Giacomo aggiunge PS la Bibbia è tutta attaccata è tutta una Giacomo capitolo 2 dice Abramo nonostante il padre della fede dovette offrire Isacco per dimostrare la fede d'accordo una domanda però dicevi che quando uno divorzia impara che il divorzio non vale la pena o si droga e muore in questo istante non sono anche i giudizi di Dio perché sì abbiamo sofferenze siamo cristiani seguiamo Gesù il diavolo ci attacca allora ci sono sempre sofferenze in questa vita non è una vita senza problemi come diceva Angela ma ci sono momenti quando noi disobbediamo e allora il Signore toglie la sua protezione e viene diciamo il castigo di Dio no? per la nostra disobbedienza e così c'è come una seconda scuola diciamo che impariamo attraverso queste cose dure qual'è la seconda scuola? non abbiamo voluto imparare per obbedienza alla maniera buona alla maniera buona tramite l'obbedienza sì allora ci sarà il bastone il bastone il bastone certo 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 infatti sofferenze sono sempre perché siamo in un mondo del diavolo ma se obbediamo il Signore ci aiuta a superare anche questo ma quando disobbediamo allora c'è il bastone però non diamo tutta colpa al diavolo ci sono anche le nostre colpe sì ma io dicevo come Abramo a volte credo che il diavolo impara da noi un pochino attenzione capito non è che c'è gente che va all'inferno vanno all'inferno loro se no andava solo al diavolo se la gente va all'inferno insieme al diavolo vuol dire che sono colpe loro sì il diavolo che ha tentato Eva ma la nostra dolce Eva poteva anche dire eh calma signor diavolo scusi io no io non accetto scusi se non si dice andiamo commettiamo adulterio andiamo rubiamo sì loro prenderanno il bastone anche di più perché ti hanno guidato ma tu lo prenderai il bastone anche tu perché hai seguito sì ma come Abramo possiamo essere fedeli a Cristo ubbidienti e le sofferenze non verranno a proposito per bastonarci ecco sì non dovremo soffrire tanto quanto gli altri tanto quanto Giacobbe tanto quanto i fratelli di Giuseppe che dovevano passare loro e la loro discendenza 400 anni per imparare vedi come era importante come erano importanti i 400 anni di schiavitù anche quando uscirono ancora non avevano imparato appena mancava un po' di acqua minerale oh vogliamo tornare in Egitto che lì c'è l'acqua gasata lì c'è l'acqua del Nilo appena mancavano le spaghetti con la pumarola col formaggio sopra oh in Egitto mangiavamo meglio di questa manna capito quindi e poi Dio Dio certamente scocciato fa ah sì allora 40 anni gira in deserto fino a quando ciao avete smesso il mormorato non smisero e morirono ci siamo sì insomma vogliamo andare da Davide sì va bene Davide secondo il libro di Samuele guarda oh signore secondo il libro di Samuele capitoli 11 11 e 24 e 25 tre capitoli che insegnano molto vedi Davide imparò sotto la scuola di Re Saúl quello è un altro Labano però ancora peggio di Labano Davide impara sotto Re Saúl dai disastri di Saúl Davide impara a cosa impara a cosa non fare Re Saúl era un perfetto insegnante su cosa non fare quindi Saúl agiva di impulso Saúl non cercava il Signore cercava la sua mente carnale quanti di noi si è incascati in questa fossa Davide impara l'importanza di non muovere un passo senza prima chiedere a Dio solamente due volte Davide agisce senza chiedere a Dio vedi secondo Samuele 11 11-12 e 24 e questo costa la vita a quattro dei suoi figli quattro dei suoi figli muoiono per i suoi peccati il neonato da Bobaseba e poi che erano Amnon Absalom e Adonia uno dopo l'altro morirono va bene perché Davide era non li non li addestrava bene cioè un problema dei genitori oggi che gli spezza il cuore dare una punizione capito e invece deve spezzare il cuore quando senza quella punizione diventeranno drogati o posseduti o pornografati eccetera e Davide perché non era un gran buon padre Davide chiamava troppo i suoi figli gli faceva gliela faceva far franca invece ha sbagliato i figli no c'è un figlio drogato e dice senti figlio mio caro di letto ti amo tanto 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 questa sarà sempre la tua casa pronto ricevi però fin quando ti droghi abiti fuori se vuoi tornare siamo qua come figlio prodigo se non vuoi tornare fa come ti pare ma qui però la pensione che noi prendiamo non è per la tua droga ti vogliamo bene oggi appena esci cambieremo la serratura e ti vogliamo bene facci sapere e quando torni ti sarai messo la prova per mesi e mesi e mesi se torni trovati un lavoro affittati la casa arrivederci e poi che è successo così era secondo Samuele mi ha detto 11, 12 e 24 ecco l'hai studiato questi tre capitoli i fratellini voglio parlare di una delle una delle mogli di di Davide lui aveva una moglie che era un disastro hanno fatti due una si chiamava Mikhail l'altra si chiamava Bazeba però c'era una moglie molto in gamba una moglie molto in gamba si chiamava Abigail va bene Abigail era una donna leggerete la sua storia secondo Samuele 25 molto interessante primo Samuele corrego la sua storia la vedete primo Samuele 25 e Nabal era il marito di Abigail ed era una sciagura era un disastro totale una cosa che aveva era ricchissimo tu vedi che i genitori di Abigail contenti di darglielo per qualche dota che sa che hanno combinato lì e Abigail era una donna di Dio e Abigail doveva sottomettersi a questo marito disastroso Nabal fino al giorno che i giudizi di Dio non cadono su di lui e Nabal muore che Davide lo stava per uccidere Davide e Abigail nonostante suo marito non valeva niente Nabal lo va a difendere gli salva la vita quando Nabal scopre tutto questo muore per conto suo va bene qui vediamo Abigail che sottomette un marito che non vale quasi niente praticamente si sottomette un'immagine bellissima di lasciare che Dio giudichi non tu però questo matrimonio è stata la scuola di Abigail per diventare una moglie degna del re perché poi è diventata moglie del re quindi questo matrimonio è stata una scuola per lei guarda Abigail una delle immagini più grandi nella Bibbia forse la più grande della sposa di Cristo Abigail va bene primo Samuele 25 ragazzi leggete studiate imparate la storia di Abigail gloria a Dio grazie Gesù aiutaci a essere così Signore beh adesso io diciamo veniamo a noi fratelli veniamo a noi io io penso che non esista un uomo di Dio che non abbia dovuto imparare da disastri e sbagli va bene uno dei più grandi uomini del Nuo Testamento uno dei più grandissimi chi è dopo Gesù Paolo Paolo penso va bene uno dei più grandissimi livello di Pietro livello lì allora le due guide dalla Chiesa d'accordo anche se Paolo ogni tanto si arrabbiava sfuriava vediamo in altri capitolo 15 a litigare con Barnabe Barnabe se ne va non ce la fa più e scappa però Barnabe aveva torto doveva sottomettersi alla guida infatti Sila prende il suo posto e finiscono di conquistare il mondo cioè di spaccare il ghiaccio per la conquista però Paolo se tu vai Romani 7 vuoi legge da 24 a 25 dovresti averlo lì nella tua lista Romani 7 24 e 25 me infelice chi mi libererà da questo corpo di morte grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore così dunque io con la mente servo la legge di Dio ma con la carne la legge del peccato alleluia quindi uno dei più grandi uomini della Bibbia va bene qui stiamo parlando a livello di Abramo gente gente che va bene e Paolo non c'è modo che possono stargli le scarpe una persona così e dice ma infelice chi mi libera da questo corpo di morte io sono schiavo legato al peccato schiavo del peccato e questo è Paolo il minimo degli apostoli l'ultimo dei santi il capo dei peccatori questo è il biglietto da visita questo è Paolo è che siamo noi io sono il pastore qui c'è il mio diploma chiamami il profeta per cortesia ma insomma io direi che è inutile che preghiamo di avere una vita senza sbagli una vita senza cadute Gesù proteggimi dagli sbagli non voglio sbagliare una vita senza sofferenza fratelli ci sono lezioni che possiamo imparare solo attraverso le sofferenze va bene non perché Dio manda le sofferenze no non perché Dio vuole che è il nostro peccato la nostra natura e siamo in un mondo caduto va bene persino Gesù abbiamo detto prima ebrei 5 e 8 che imparò l'obbedienza attraverso le cose che soffrì e allora io direi fratelli è giunta l'ora di da una parte combattere il diavolo e senza desistere fino alla fine no però dall'altra parte è il momento di arrendersi a chi? attenzione non sbagliare non arrendersi al nemico arrendersi a Dio va bene sottomettiamoci questa realtà e prima lo facciamo più presto la campanella dalla fine della scuola suona quindi prima ci arrendiamo a Dio come Giacobbe che così Dio poter farlo divenire Israele Giuseppe è così che è potuto diventare vicere d'Egitto arrendiamoci Dio c'ha un piano per ciascuno di noi altrimenti non ci avrebbero creati non saremmo qui Angela tu sei stata creata per quello che stai facendo però stai facendo abbastanza bene di solito cadi sbagli chiedi scusa chiedi perdono come tutti noi qui però sei stata creata per questo io anche lo credo i fratelli per il mondo sono lo scopo perché io vivo che Gesù mi ha mandato per questo scopo il poco di bene che posso fare e questo è il mio scopo della mia vita io quando avevo mi ricordo dopo che mi sono salvato ho avuto visioni del cielo del paradiso va bene Gesù mi parlava non lo sapevo che era Gesù lo sentivo nel cuore però ho avuto anche delle visioni del cielo e una volta ho avuto una visione mi pare aveva 9-10 anni e vedevo ho visto un uomo di Dio seduto sull'erba c'erano una ventina quindi 15-20 persone intorno va bene e questo qui gli parlava c'era un grande amore una pace e tutti erano lì concentrati guardando negli occhi e lo vedevo solo di spalle uno con i capelli bianchi e poi una volta mi ricordo ero a Cluj in Romania eravamo in un parco ed ero io ero seduto per terra lì avevamo delle pezze di cartone ci portavamo una quindicina di pezzi di cartone per sedersi al parco e i studenti venivano e ci sedevano ed erano tutti riseduti e se mi ha parlato con la visione che hai visto eri tu capito cioè Dio già mi preparava per questo che sto facendo lo scopo è che io sono nato sono cresciuto ho fatto gli sbagli sono cascato nelle fosse ho imparato è caduto di nuovo ho imparato di nuovo ho cascato di nuovo mille volte mi sono rialzato sono qui oggi lo scopo perché Dio mi ha creato e perché per quello esattamente è quello che sto facendo Dio c'è uno scopo per te Angela Dio c'è uno scopo per ogni fratello che ci sta seguendo ogni sorella Dio c'è uno scopo speciale per ciascuno e non stiamo qua a fare i paragoni o vediamo un po' ma io sono Marta Maria è meglio di me Maria ha avuto un complimento ha avuto una sculacciata possiamo tutti superare gli sbagli e tutti diventare quello che Dio ci ha chiamati a fare uno il braccio l'altro il piede l'altro l'occhio l'altro l'orecchio siamo tutti nel corpo non è che l'orecchio è meglio dell'occhio e l'occhio è meglio della bocca no siamo tutti importanti perché se manca cosa taglieresti quale dito taglieresti prendi l'accetta taglia qualche dito cos'è che niente non c'è niente che possiamo fare a meno ogni fratello ha un'importanza essenziale saremo tutti benedetti in cielo non perché abbiamo fatto lo stesso come Paolo come Pietro ma perché siamo stati fedeli nella piccola mansione piccolo incarico la cosa che Dio ci ha chiamato a fare nel corpo siamo stati fedeli nel poco dice Gesù io ti benedirò nel mondo e allora fratelli arrendiamoci arrendiamoci a Dio sempre combattere contro il diavolo ma arrendersi a Dio fratelli sottomettiamoci queste realtà prima lo facciamo più presto il Signore ci darà il diploma ben fatto servo buone fedele quindi anche questi giorni di coronavirus di quarantena possiamo usarli per i scopi di Dio non deve essere una tragedia che viviamo possiamo trasformarla in una vittoria amén possiamo imparare da questo che succede possiamo diventare più forti in Cristo nella fede nella parola possiamo evangelizzare di più la gente adesso ha il cuore più aperto approfittiamoci di questo guarda è questo tempo che siete chiusi in casa fratelli imparate le lezioni impariamo le lezioni di Giuseppe in prigione due anni in prigione impariamo le lezioni Daniele nella forza dei leoni impariamo le lezioni i tre amici di Daniele lì buttati nella fornaccia del fuoco Daniele capitolo 3 e capitolo 6 impariamo questa lezione impariamo le lezioni di Gesù imprigionato davanti a Caiafa mentre gli sputtavano in faccia lo schiaffeggiavano a Gesù è il momento della sofferenza se sei in casa in quel momento evangelizza per telefono evangelizza per internet evangelizza come ti pare e se non puoi mi assicura di cominciare la giornata in ginocchio lodando il Signore e benedicendo grazie al Signore che sono qui segregato in casa grazie al Signore che posso imparare ad amarti in un modo diverso posso imparare a crescere nella preghiera Signora la preghiera per le preghiera no preghiera rosario bambolato ripeto con papagalli ma preghiera vera prego per Ernesto prego per Maria che ha questo problema prego per Giovanni mi ha telefonato ieri e adesso vado a telefonare a Giovanni e ecco aiutiamo per parlare delle scritture e gliele condivido a Giovanni a Maria ad Ernesto a chiunque Signore io sono fedele Signore se sono qui in questa prigione evangelizzerò il secondino la guardia appena appena quello finisce di torturarmi gli darò l'amore di Dio va bene sono qui in ospedale oh Signore io sono stato in ospedale fratelli si può evangelizzare gli infermieri farli sorridere parlargli di Gesù benedirli i dottori ma qui la fede in ospedale in ospedale ci andiamo come missionari non come pazienti nel nome di Gesù Cristo amén alleluia grazie grazie Signore siamo in una scuola guarda siamo in una scuola il Signore dice a chi in questo momento soffre a causa di ingiustizia va bene e cosa dice Signore adesso voglio leggervi cosa dice la sua parola dice Signore è anche beato chi ascolta col cuore e non solo con la mente devi andare Angela Salmo 37 da 7 al 36 qualche stralcio va bene Salmo 37 ecco comincio io ok grazie Gesù dice sta in silenzio davanti al Signore aspettalo non adirarti perché ha fortuna nelle sue imprese per l'uomo che è successo nei suoi malvagi progetti cessa dell'ira lascia lo sdegno non adirarti ciò spingerebbe anche a te a fare il male perché i malvagi saranno sterminati quelli che sfiorano nel Signore possiederanno la terra ancora un po' e l'empio scomparirà tutte le cose del mondo le multinazionali oppressori le sanguisughe scompariranno ancora un po' l'empio scomparirà dice verso 10 tu osserverai il luogo dove si trovava ed egli non ci sarà più 16 anzi 16 17 il poco del giusto vale più dell'abbondanza degli empi perché la braccia degli empi saranno spezzate ma il Signore sostiene i giusti va bene fratelli non disperate verso 23 i passi dell'onesto sono guidati dal Signore egli gradisce le sue vie va bene il Signore gradisce le vostre vie quando siamo onesti davanti a lui 24 se cade non è però abbattuto perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano verso 30 e 31 la bocca del giusto esprime parole sagge e la sua lingua parla con giustizia la legge di Dio è nel suo cuore i suoi passi non vacilleranno non vogliamo che i nostri passi vacillino la legge di Dio deve essere nel nostro cuore 35 e 36 ho visto l'uomo malvagio prepotente ergersi come un albero verdeggiante sul suolo natio sul suolo natio ma poi è scomparso ed ecco non c'è più l'ho cercato ma non si è più trovato un salmo di 40 scritture vi consiglio di meditarci sopra guardate come il Signore vi benedice nelle vostre sofferenze che il diavolo manda ok attenzione attenzione alle dottrine false Dio non manda le sofferenze non è un Dio di sofferenza è un Dio di amore di gioia di libertà di allegria alleluia angela di alleluia alleluia grazie Signore gloria è bello sapere anche da questi mali possiamo trarre del bene crescere e vedere il positivo perché alla fine noi andiamo nel paradiso non c'è niente da lamentarci da mormorare e quando ci lamentiamo e guardiamo al negativo le cose diventano più pesanti più difficili sì amén io credo che il Signore sta mettendo nel vostro cuore di telefonare a qualcuno qualche pecorella che si sintonizzi perché noi vogliamo raggiungere fratellini nuovi e vogliamo aiutarvi a raggiungere pecorelle nuove siete in casa telefonare in giro anche in questo momento una telefonatina dice senti sintonizzati che c'è uno ci sono dei fratelli del Sud America che stanno dando dei messaggi interessanti ascolta un pochino va bene dovreste farlo sempre invitare invitare le pecorelle ad ascoltare a venire alla parola alleluia e fra il tempo mentre telefonate io vado avanti gloria al Signore alleluia grazie Gesù alleluia allora qui c'è da imparare dobbiamo imparare da cosa? da qualunque scuola qualunque cattiva scuola del mondo qualunque scuola di malattia di avversità malattie nel nome di Gesù Cristo qui le vinciamo d'accordo? quindi la scuola di malattia si vince sgridando la malattia che è la malattia il cancro il tumore e quella è la faccia del diavolo come la faccia del diavolo immagina un cancro con la sua faccia quindi sgridare il cancro che torna a Satana nel nome di Gesù Cristo spero che nessuno internet ti offende che parlo male del diavolo ma è così la storia io sono cristiano credo nella Bibbia lui è il padre di ogni male quindi a volte c'è una cattiveria che proviene da certe persone quindi con l'amore di Gesù si vince dobbiamo imparare anche a sottometterci all'ammaestramento a volte che viene anche in forma dura e l'ammaestramento viene attraverso tante cose situazioni persone un pastore che giustamente ti corregge e allora dobbiamo sottometterci a questo ammaestramento a volte sono duri ma Dio li permette la nostra vita a volte dobbiamo imparare da un marito difficile una moglie indegna e evangelizzarle questa gente e allora dobbiamo aspettare con perseveranza fratelli che il Signore ci liberi perché sicuramente verranno le liberazioni del Signore come è venuto per Abigail come è venuto per Giuseppe come è venuto per Abramo che Dio gli ha salvato Isacco viene sempre e per il martire poi il martire che muore nella sofferenza allora quello è più benedetto di tutti perché presentarsi davanti a Dio con un biglietto da visita chi senti sono il martire tal d'età e tutti gli angeli un martire gli angeli si fermano quando ti vedono gloria a Dio dicono gli angeli un martire devi andare a Bakuk 2,2,3 per gentilezza a Bakuk 2 sì 2,3 lì nella lista il Signore mi rispose e disse scrivi la visione incidila su tavole incidila su tavole perché si possa leggere con facilità il nostro Evangelo deve essere facile da capire non solamente per quelli che hanno studiato 99 anni nell'università non per certi articoli di giornale che non so se ridere o piangere ho letto un articolo di giornale settimana scorsa c'erano dentro 30 parole tra inglese tedesco e francese ma chi è che conosce queste lingue io un po' un po' un petit peu di francese parlo come una vascia spagnola d'accordo tedesco non se ne parla va bene inglesi mi arrangiano un po' mi arrangiano un po' ecco va bene però questi giornalisti che parlano tutte queste lingue mica tutti quanti parlano francese mica tutti parlano tedesco io non lo parlo tedesco devo andare a googolare in giro per vedere cos'è che vuol dire sto a Ktung qui va bene il vangelo e questo si trasmette nel vangelo ci sono questi qua col cappellino del circo equestre che parlano un vangelo intellettuale signore il signore è libero scrive la visione incidela su tavola perché si possa leggere con facilità fratelli quando predicate il vangelo sempre predicare i bambini se i bambini capiscono capiranno anche gli intellettuali va bene se parli intellettuali non capiscono nessuno non capiscono anche loro l'intellettualese è una lingua per capito per farti vedere che sei così intelligente ma cosa sta dicendo se la gente deve dire si 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 fa finta di capire non capisce nessuno allora quindi scrivere il vangelo predicare il vangelo in una maniera chiara semplice ha detto Gesù cos'è Matteo 11 ti ringrazio padre che ha nascosto queste cose ai salvi gli intellettuali intellettuali politici intellettuali psicologici intellettuali filosofi e le ha rivelate i piccoli fanciulli va bene Matteo 11 verso 25 26 più o meno al verso 3 allora perché è una visione Abba Kuk 2 3 perché è una visione per un tempo già fissato essa si affretta verso il suo termine e non mentirà se tarda aspettala poiché certamente verrà e non tarderà il Signore ci sta dicendo figli miei ci dice il Signore se state soffrendo se il diavolo ha mandato i suoi diavoli virus se succedono queste cose qui qui c'è la visione va bene la visione qual è la visione tante visioni nella Bibbia principale Gesù la sua guarigione la sua benedizione la sua salvezza il regno di Dio Apocalisse 21 Gerusalemme che scende dal cielo dove entreremo se siamo nel libro dell'agnello se sono quelli che non ci sono andranno da qualche parte fuori della Bibbia però certamente non all'inferno nel nome di Gesù Cristo è una visione per un tempo già fissato Dio ha fissato il tempo 42 mesi la parte del diavolo poi dopo quello lì il lago di fuoco e poi l'eternità quindi fratelli tutto l'inferno che noi avremo è questo siamo adesso questo guardate non è neanche un inferno troppo cattivo perché si può barcamenarsi e quelli che non vogliono Gesù Cristo che non si pentono tutto il paradiso che avranno è questo è questo qua compreso tanti religiosi che di cristiani c'è solo una croce attaccata al collo conclusione amati fratelli quando siamo nelle varie inevitabili fosse di questa vita non guardiamo giù alla fossa ma guardare su verso Gesù non guardate al coronavirus guardate guardate la corona di Gesù guardate le benedizioni guardiamo le promesse le meravigliose promesse che non ci hanno mai fallito io sfido chiunque a mostrarmi dove Dio ha fallito una promessa sono solo irrispettabili satanisti che dicono questo ma sono bugie perché il diavolo è un diplomato di bugie il diavolo Dio non ha mai fallito niente ogni profezia è stata adempita specialmente le promesse va bene grazie Signore allora voglio dire quello che Gesù sta cercando di insegnarci va bene probabilmente attraverso a volte trattamento d'urto va bene perché la zucca è dura e ci vuole va bene però quello che Dio sta cercando di insegnarci va bene dobbiamo metterci in ginocchio e capirlo e quindi dire queste parole Gesù Gesù quello che vuoi insegnarmi lo voglio imparare con le buone non con le cattive voglio imparare con la parola non con le malattie con la parola che tu mandi e non con le malattie che il diavolo manda voglio imparare in ginocchio amando e benedicendoti Signora imparare ad amare mia moglie mio marito i miei figli i miei genitori Signore voglio imparare con la parola non voglio imparare col bastone Signore aiuta la mia zucca dura ad ammorbidirsi non voglio essere come Israele che ci sono voluti 430 anni di scavitù in Egitto per imparare e che poi non neanche maggioranza non hanno imparato Davide anche lui ha imparato Davide è scappato per 7 anni scappato insomma si rifugiava per 7 anni un periodo così davanti al malvagio re Saul 7 anni è passato Davide scappando di qua e di là con Saul che fuoco e fulmini voleva uccidere e Giacobbe 20 anni di umiliazione abbiamo detto da parte del signor suocero egregio Labano e poi abbiamo parlato di Abigail va bene che ha sopportato sul malvagio Nabal una donna meravigliosa perché Davide neanche se la meritava Davide è una donna come Abigail non se la meritava quando sono in paradiso glielo voglio dire Davide a te non posso illustrarti le scarpe quant'altro sei più grande di me però tu Abigail non la meritavi va bene gloria a Dio immagine della sposa di Cristo sai che meritava Abigail Gesù se la merita va bene che lui poi l'ha anche trascurata questa donna questa donna è andata da Davide Abigail è andata da Davide sai cosa gli ha detto quando Davide le ha chiesto in sposa una cosa giusta che ha fatto sulla donna che sulla donna quello veramente zigzagava abbastanza e Abigail è andata quando le ha chiesto in sposa che il marito Nabal gli ha preso un collasso morto sul colpo e Davide le ha chiesto in sposa perché è stata grazie a Abigail che Davide non è andato a ammassarlo a Nabal Abigail prende va con le sue ancelle quattro ancelle si porta va da Davide e gli dice io non sono degna di essere tua sposa sarò la serva delle tue serve immagino ma ti rendi conto questa qualche fede che aveva ti rendi conto Davide non meritavano infatti ha messo ha guardato ha spostato gli occhi su una donna pornografica una certa Barseba che andava a fare il bagno dove non doveva capisci e perché magari era più che so il tacca a spillo più alto non so cosa avevo quella lì e che ha scattato una fossa Davide Dio benedica Abigail un'immagine della sposa di Cristo va bene una parola su Saulo di Tarso cosa è successo com'è che Dio lo ha com'è che Dio l'ha raggiunto Dio quando Gesù ha incontrato Saulo cosa ha fatto Gesù la prima cosa l'ha buttato giù da cavallo dice innanzitutto giù da cavallo e l'ha buttato giù da cavallo con amore ovviamente fa tutto con amore Gesù va bene atti capitolo 9 Saulo va Saul va a Damasco a far vedere chi è lui e allora invece ha incontrato uno che gli ha fatto vedere chi era lui Gesù cascato giù da cavallo lo ha persino accecato va bene Saulo perde la vista perché perché potesse riacquistarla nello spirito quanto tempo ci ha messo per Saulo a riacquistarla tre l'ha riacquistata subito quando Anania ha pregato per lui d'accordo però ci ha messo per vedere bene nello spirito ci sono voluti tre anni di addestramento diretto di Gesù attraverso lo spirito santo e Gesù gli ha insegnato il Vangelo va bene che dicono dicono la storia cristiana dice che il Vangelo di Marco è stato scritto dal discepolo di Paolo che era quel Marco che poi in atti capitolo 15 Paolo non voleva che poi Marco invece è tornato quando Paolo Paolo sta per essere ucciso e dice dice mandatemi Marco perché è molto utile per me va bene grazie Signora insomma Marco non so quando è arrivato lì era prigioniero perché non ho esattamente la data era lì ed era fedele ed è quello che il Vangelo di Marco che è il Vangelo più condensato più veloce io quando quando è uscito lo spirito santo l'ho letto una mattina ho riuscito a sbettere cominciato a prima capire fino alla fine la sapere la colazione tutto me lo magnavo come se fosse una grigliata ho dovuto finirlo mi chiamavano e mi dice no sono a letto non mi alzo dove finì sto con il Vangelo era troppo bello troppo bellissimo il Vangelo di Marco perché è condensato quindi tre anni di Arabia per imparare a vedere le cose Paolo imparò in Arabia tre anni ci mise per imparare a vedere le cose nel modo giusto prospettiva giusta il punto di vista di Dio e così Paolo impara e alla fine in Galati capitolo 2 finalmente lui può dire lo diciamo insieme a lui tutti insieme Galati 2.20 possiamo leggere tutti insieme ma fratelli aprite la Bibbia da qualche parte sempre venire con la Bibbia per cortesia Galati 20 va bene? è il nome di Gesù alleluia Signore gloria a Dio forza tutti apri Galati 20 Romani primo corinze secondo corinze Galati ci siete? sì andiamo 2.20 2.20 sono stato crocifisso con Cristo non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me e la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me Filippesi 1.21 Angela ce l'hai lì Filippesi 1.21 infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno gloria gloria al Signore alleluia grazie quindi coronavirus corona diavolo corona immondizia tutto il mondo ma sai perché il mondo è spaventato il coronavirus sai perché due motivi primo perché può morire secondo anzi tre motivi primo perché può morire secondo perché morendo devo lasciare le cose materiali tristissimo per loro non sanno che le cose materiali sono una catena e terzo perché il mondo si preoccupa del coronavirus perché 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 quando muore non sa dove va è un salto nel buio la Bibbia dice un salto nelle mani del diavolo più o meno nell'Hades Luca capitolo 16 un posto oribile dove lì mendicano per una goccia d'acqua così come oggi nel mondo i poveri mendicano una goccia di soldi una goccia di una briciola di pane qualche soldo che mi compro una mascherina quattro soldi che posso comprarmi un chilo di pane per i bambini e no dicono le banche noi mica siamo un istituto di beneficenza noi siamo un istituto democratico democratico cioè oggi le sanguisughe sono diventate democratiche questa gente qui se non si pente andrà in un posto Luca capitolo 16 dove in ginocchio invocheranno per una goccia di acqua e non potranno averla altro che i pelandroni qualche pelandrone religioso che dovrebbe andare in bicicletta a fare che dice Dio ama tutti perdona tutti siamo tutti figli di Dio dice qualche pelandrone religioso che li vivono per lui la Bibbia è un libro più chiuso sembra un libro del telefono perché stai qua Dio ama tutti e tutti sono figli di Dio anche quelli che respingono se quelli che peccano contro il Spirito Santo figli di Dio certo caro mio attenzione ai falsi profeti ai falsi Cristi alleluia per me vivere è Cristo e morire è guadagno gloria al Signore che bellissimo questa scrittura guarda chiudiamo con un'altra scrittura un altro passaggio devi andare ce l'hai lì mi pare che Filippesi 3 7 a 16 qualche straccio Filippesi 3 mi reggi 7 per favore grazie di Dio ti benedica Angela you are a blessing Angela is a big blessing I pray so vai Filippesi 3 7 ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo gloria al Signore quello che ci quello che nel mondo è guadagno è un danno a causa di Cristo scusa non ho tradotto io are a blessing vuol dire se è una benedizione che prima predicavo contro parlare lingue che nessuno capisce si può parlare perché a volte anche scappa sai uno si confonde però devi tradurre verso 8 anzi a dire vero io ritengo che ogni cosa sia va davanti io sì allora a dire vero ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte a cosa all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore per il quale ho enunciato a tutto io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare di Cristo l'originale è greco non dice spazzatura dice una parola che non si può ripetere molto facilmente potete immaginarlo paro era un radicale altro che oggi sai i predicatori no no andavo al punto qui e voglio essere trovato in Cristo in Lui non con una giustizia mia religiosa derivante dalla legge religiosa religiosa parentesi va bene se non c'è lo aggiungo io ma è una giustizia che si ha mediante la fede in Cristo la giustizia che viene da Dio basata non sulle opere religiose aggiungo io religiose ma basata sulla fede tutto questo allo scopo di conoscere Cristo la potenza della sua resurrezione la comunione delle sue sofferenze divenendo conforme a Lui nella sua morte infatti in primo conizio 15 dice io muoio ogni giorno dalla mia vita ogni giorno è così che si muore per Gesù ogni giorno non solo un giorno quando si porterà sul calvario che magari non avverrà magari che saremo crocifisso e una croce che non avverrà ma morire adesso subito di corso in questo oggi non domani come si muore facendo la volontà di Dio per esempio telefona quella pecora e se ormai il programma radio è finito leggigli la scrittura per telefono spalanca la Bibbia telefona quella pecora lì mandagli un'email qualcosa sai quella pecora lì che Gesù ti sta mettendo nel cuore quella pecora corregli dietro lascia le 99 vai quella pecora la sperduta e parlagli così ammalato e sano quello che è parlagli della guarigione parlagli della guarigione spirituale quindi quindi tutto questo lo scopo di conoscere Cristo la potenza della sua resurrezione la comunione delle sue sofferenze le sofferenze di Gesù qual era? era fedele ogni giorno a raggiungere le pecore esempio da seguire e così dice Paolo divenendo conforme a lui nella morte verso 12 non che io abbia già ottenuto tutto questo o che sia già arrivato alla perfezione vedi la umiltà di Paolo dice non è che sono arrivato io sono il vicario di Cristo io sono il rappresentante sulla terra ecco portatemi sulle spalle non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione ma prosegue il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato afferrato da Cristo Gesù fratelli io non ritengo di averlo già afferrato ma una cosa faccio dimenticando tutti insieme dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti cos'è che sta dietro? il mondo cos'è che sta davanti? Cristo il mondo dietro la croce davanti il mondo dietro la croce davanti il mondo dietro la croce davanti non dubiterò non fallirò ma sempre avanti con Gesù io andrò alleluia scusate come cantante magari non valgo molto io la scala posso solo scala di Milano posso solo vederlo col binocolo però gloria a Dio alla gloria di Gesù verso 14 che concludiamo questa scrittura il passaggio e anche il messaggio allora dice Paolo io corro verso cosa? corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù fratelli stiamo correndo o stiamo o stiamo guardandoci intorno com'è che si corre? fai quella telefonata a quella pecora manda quell'email a quella pecora dai la salvezza di Gesù a quella pecora prega per la guarigione di quella pecorella come corri corri ubbidendo al Signore guardando al Signore predicando al Signore dando le scritture io sono qua seduto in questo momento sono qua seduto ma sto correndo sto correndo nello spirito sto correndo nel mio cuore e qui noi siamo una chiesa che chi si ferma è perduto ragazzi qua tutti dobbiamo correre nello spirito non è la carne non come uno batte l'aria va bene? amén amén sedici finisci tu Angelo? soltanto dal punto a cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via alleluia oh dove siamo arrivati in quale punto siamo arrivati? a Gesù dove siamo arrivati? alla parola dove siamo arrivati? ci siamo innamorati di Dio ci siamo innamorati di Gesù siamo arrivati fratelli quando hai la salvezza quando hai capito che quando arrivi che sei innamorato di Gesù va bene? allora sei arrivato anche la salvezza non è è il punto d'arrivo in certo senso io lo chiamo più punto di partenza ma l'arrivo è quando entriamo la salvezza è la partenza che quando nasce non è che comincia a vivere comincia a morire ok? quando nasce comincia a morire ciao l'orologio della morte tic tac tic tac tic tac 70 anni 80 anni 90 anni morto nessuno nessuno alla nascita nessuno comincia a vivere si comincia a morire contro la robescia ma siamo arrivati quando? quando uno arriviamo alla salvezza e due arriviamo dentro la volontà di Dio quindi ubbidendo praticando camminando con Gesù mano nella mano guardando a Gesù Gesù ci dà uno sguardo di amore dico si signora andiamo io non rimango indietro Gesù non va troppo veloce che non possiamo andare al suo passo Gesù cammina alla velocità dell'obbedienza Gesù non ci lascerà indietro a meno che noi non usciamo di strada a meno che non cominciamo a mormorare non cominciamo a disobbedire non cominciamo a fare quello che vogliamo non andiamo vicino all'albero dei frutti imprebiti come Eva quello è smettere di seguire alleluia allora ragazzi quando entriamo nella volontà di Dio che siamo alla volontà di Dio che obbediamo alla volontà di Dio ecco siamo arrivati però attenzione possiamo uscire di binario quindi non usciamo di binario va bene primo corinzi leggi Angelina primo corinzi primo corinzi tre dobbiamo cominciare dal dodici più o meno dodici primo corinzi tre dodici ora se uno edifica su questo fondamento aspetta undici nessun altro fondamento undici poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto cioè Cristo Gesù oh d'accordo e ci siamo fino a qui qui non c'è né regioni pagane idoli eccetera il fondamento è Gesù Gesù il Vangelo la Bibbia per vostra informazione e il libro la Bibbia che tutte le religioni imitano se tu vedi tutte le religioni sono copiate sulla Bibbia chi fa finta di predicare l'amore chi fa finta la Bibbia è il fondamento non si scappa non si scappa andiamo il fondamento è Gesù ora se uno edifica su questo fondamento oro argento pietre di valore legno fieno paglia l'opera di ognuno sarà manifestata quindi allora oro argento diamanti cosa sono sono le anime tra l'altro non i diamanti sono per sempre le anime sono per sempre i diamanti no d'accordo quindi però i diamanti i pietre preziose l'oro l'argento rappresentano il Vangelo noi edifichiamo il Vangelo sul fondamento di Gesù però c'è anche chi mette fieno paglia immondizia false dottrine sul fondamento a volte dice quello predica la Bibbia sì perché ogni volta che predica lui inizia con la Bibbia eh sì sì però dobbiamo vedere come finisce com'è che interpreta la Bibbia con la sua zucca carnale o con la Bibbia la Bibbia si interpreta solo con la Bibbia avanti Angelo perché il giorno di Cristo la paleserà poiché quel giorno ha da apparire qual fuoco il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno se l'opera che uno ha edificato sul fondamento sussiste egli ne riceverà ricompensa se l'opera sua sarà arsa egli ne avrà il danno ma egli stesso sarà salvo però come attraverso il fuoco alleluia alleluia e qui di nuovo torniamo a quello che uno che anche se c'è la sua opera bruciata eccetera una laudicea per esempio che mette in mondizio il suo fondamento però aveva fatto una sola cosa giusta aver accettato Gesù e a salversi Gesù non se la riprende grazie a Dio e quindi lui riceverà danno quindi perderà la corona l'epocrista 3.11 perderà la corona ma lui sarà salvo senza corona va bene però sarà salvo nel nome di Gesù Cristo Amen Amen messaggio è finito anzi il messaggio comincia adesso finisco cominciamo tutti a metterlo in pratica adesso nel nome di Gesù Cristo a me Signore ti ringraziamo ti benediciamo fratelli preghiamo Signore Gesù aiutami Signore Gesù Signore aiutami Gesù preghiamo fratelli che la scuola dei disastri del mondo possa insegnarci la scuola ci possa insegnare ad essere come a te Gesù che tu hai imparato Gesù hai imparato sul Calvario sulla croce Signore Gesù 33 anni tu hai portato la croce poi alla fine hai portato quella materiale ma l'avevi già spirituale la croce dei nostri peccati la croce dei nostri dubbi paure le nostre disonestà le nostre infedeltà il nostro finto cristianesimo questa croce ti hai portato Signore voglio essere come a te Signore voglio essere come a te Signore Alleluia Signore Gesù liberami da qualunque oppressione demoniaca che mi fa essere mezzo cuore liberami Signore voglio essere come Gesù voglio essere nel nome del Signore che possa amare amare i fratelli di altre religioni di altre chiese che tu ricevi tutto viene il giorno dice il Signore che non vi saranno più tutte queste sette vi sarà solo un pastore un ovile una chiesa un corpo quello mio dice il Signore Alleluia a me a me nel nome di Gesù Alleluia Alleluia Angelo anche nel messaggio a te la parola ascoltiamo il canto di Zigani Io sono l'Eterno il tuo Dio una bellissima profezia da Gesù grazie a te la parola a te la parola il mio l'Eterno il suo Dio e il mio il suo Dio il suo Dio il mio il suo Dio Quando un esercito verrà contro te Non ti preoccupare, combatterò con te Io sono l'eterno, veglio su di te Ti consolerò quando sarai triste Ti proteggerò sotto le mie ali E ti abbraccerò per darti forza Abbi fede in me, nelle tue paure Io sono il tuo Dio che ha aperto il mare Non temere nulla, io sarò al tuo fianco Con la mia mano ti rialzerò Farai ogni cosa solo se avrai fede Resterai in piedi se combatterai Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò Combatterò con te, tu non temere Farai ogni cosa solo se avrai fede Resterai in piedi se combatterai Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò Combatterò con te, tu non temere Non aver paura di lottare Niente può colpirti se confidi in me Vincerai con te, tu non temere Vincerai con fede contro ogni male E quando cadrai, ti rialzerò Io sono l'eterno, io ti darò le forze Lungo il tuo cammino, io ci sarò Ti darò riparo sotto le mie ali Ti terrò per mano, sostenendoti Attraverseremo insieme ogni cosa Aspetterò con te la fine della prova Non temere nulla, io sarò al tuo fianco Con la mia mano ti rialzerò Farai ogni cosa solo se avrai fede Resterai in piedi se combatterai Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò Combatterò con te, tu non temere Farai ogni cosa solo se avrai fede Resterai in piedi se combatterai Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò Combatterò con te, tu non temere Ci saranno giorni accesi e giorni bui Ma io ti abbraccerò per darti forza Con te, tu non temere